Ma ci arriveremo. Piccerno, butta fuoco. Ma insomma, ci troviamo a commentare indiscrezioni giornalistiche, perché insomma non è detto che nascano nuovi partiti, non è detto che lo faccia Calenda, non è detto che lo faccia Renzi. Sicuramente il PD, se mi viene chiesto un commento su questo, vive un momento difficile. Però, come dire, l'opinione prevalente, lo dice una, che come sapete è scritta, il PD è renziana. Cioè, mi sembra un dibattito per davvero lunare. Perché, allora, quando Renzi partecipa alla vita interna del PD, tutti quanti in coro gli spiegano che deve starsene in disparte, perché è ingombrante. Se se ne sta in disparte, i candidati si ritirano. Mi sembra un dibattito lunare. Io faccio una domanda pratica da donna. Non ho capito che... Io faccio una domanda pratica, mi sembra appunto, ha ragione lei, tutte queste... Mi sembra un dibattito ossessionato. Facciamo una domanda pratica. Questo congresso lo vince Zingaretti, diventa segretario del PD. Il PD è veramente tanto diverso da come l'avete immaginato voi, Renzi e le persone che la pensavano come lui, come anche lei. Che fate? Rimanete dentro e rispettate Zingaretti come si fa nei partiti di una volta? O avete la tentazione forte di creare un altro contenitore diverso? Guardi, io, diciamo, per cultura politica, per formazione, io questo partito ho contribuito a crearlo. Certamente anche, ed era una ragazzina, ero piccolina, era ai tempi appunto di Veltroni, quando l'abbiamo fatto nascere noi abbiamo immaginato un PD diverso, ecco, da quello che è diventato, certamente. Era un PD inclusivo, un PD, un partito capace, anche per il momento storico che è evidentemente cambiato, perché là c'era un sistema bipolare sostanzialmente, ora quel sistema bipolare non c'è più, ma insomma, era una condizione storica completamente diversa. Poi la mia opinione personale, dicevo, per formazione, per cultura politica, è dare battaglia all'interno. Certamente Zingaretti è culturalmente distante per molti aspetti. Ma lei non va via? Ma guardi, io intanto penso che nessuno vada via, io credo che ci si supererà, è un momento sicuramente difficile, però io invito tutti, per davvero, a superare questa ossessione. Ma io mi associo da esterno, perché non abbiamo bisogno di frottomazione. Perché è incredibile, ma poi aggiungo, ma poi aggiungo, in un momento nel quale, e questo Renzi l'ha spiegato un minuto, bisogna fare l'opposizione adesso, non bisogna fare cacchino a tutti. Appunto, anche... Diciamo la verità. E Renzi l'ha detto molto bene nel posto di assitto stamattina, il problema è quello che sta succedendo in Italia, e allora con un governo che è assolutamente... Allora, io sono d'accordo, ancora con la mozione di Cerno smettiamo di parlare di contorcimenti del PD.